Solita carrellata nel box del Top Kart Racing Team, cominciamo questa volta l'analisi del weekend di Sarno, seconda prova VSK Master Series, con la sesta posizione in finale di Kevin Lavelli. Sì, siamo partiti dalle qualifiche con un ventunesimo posto, diciamo non troppo avanti, comunque anche da quella posizione ce la siamo cavata. Nelle mance, a causa di errori commessi da me, abbiamo accumulato molti punti di penalità e in finale, subito al primo giro, a causa di un incidente sono uscito, ma lo stesso anche in finale, partendo dalle retrovie, sono riuscito a risalire. A Casseletto di Branduzzo, ultima prova del VSK Master Series, riuscirai ad agguantare forse l'agoniato podio? Si spera, tutti lo sperano. A capo del trenino Top Kart, quarto, quinto e sesto, a capo del trenino Top Kart, appunto dicevamo, c'è Alessio Santilli. Hai sferato veramente il podio stavolta? Sì, è stato un buon weekend, siamo partiti diciamo abbastanza bene, nelle mance siamo stati molto costanti, siamo stati sempre nei primi 5-6. In pre-finale purtroppo ho avuto un contatto con Nielsen nel giro di ricognizione, quindi sono partito ultimo, sono arrivato quindicesimo. In finale sono partito appunto quindicesimo, sono sfilato bene alla prima curva, avevo un gran passo, sono venuto su abbastanza bene, ho passato Olsen, mi sono messo in terza posizione, purtroppo ho commesso un errore e mi hanno sorpassato Ippolito, Fioravanti e Olsen. Li ho sorpassati un'altra volta, insieme a Joyner siamo venuti su. Purtroppo ho sbagliato io nel finale a non tentare l'attacco ad Olsen. Un quarto posto amaro, visti i presupposti, però ci fa ben sperare per il futuro. Ha sicuramente da recriminare anche Guazzaroni che, insomma, a giudicare anche dal tuo aspetto e soprattutto dalla tua gara, diciamo che il podio potevi agguantarlo veramente, anche tu come senti lì questa volta? Eh sì, veramente, siamo partiti bene, nelle qualifiche quattordicesime abbastanza bene, poi nel match sempre competitivi, un secondo posto, un terzo, poi sempre gli altri nei primi 5. Sono partito sesto in prefinale, però la prima cura mi hanno buttato fuori, sono ripartito, sempre il primo giro fuori un'altra volta e mi sono dovuto ritirare. E poi in finale dal trentesimo ho fatto nono, si poteva arrivare nei primi 3 sicuramente, forse, non dico vincere, ma secondo penso proprio che sì. La grinta non ti manca davvero, a Casseletto di Branduzzo la strategia di gara quale sarà? Vediamo un po' come vanno le match e come si riuscirà a stare nella finale, se si sentirà forte, come spero, spero di arrivare al podio e vincere. Vediamo un po' quello che si farà. Si è completamente ripreso dopo l'incidente di Muroleccese, Manuel Gratellini, con cui facciamo anche questa volta un bilancio, ma del weekend di Sarno, seconda prova, WSK Master Series. Come è andata? Sicuramente è andata molto meglio rispetto a Muroleccese. La qualifica era possibile, ho avuto un incidente in una match, le altre match sono andate tutte abbastanza bene. L'ultima match, che era quella buona per poter entrare, ho grippato, quindi sono proprio un coglione, me lo devo proprio dire, perché era fattibilissimo, però purtroppo ho fatto, sia quando c'è stato un incidente, vabbè, quello può capitare. Purtroppo la rottura era da evitare, se si evitava quella sicuro si entrava, quindi comunque è molto meglio di Muroleccese, quindi penso positivo anche per Castelletto, penso che si possa fare una bella gara per Castelletto. Bocca all'uomo. Grandissima gara, grandissima finale, ma grandissimo weekend anche per Simone Cunati in KF3, che ha lottato col coltello fra i denti fino all'ultimo. Il podio è mancato, ma veramente per nulla? Sì, siamo stati veloci fin dal giovedì, nelle qualifiche abbiamo avuto qualche problema, ma abbiamo finito i tredicesimi totali, nelle match sono andato a fare i giri sul Vesuvio, ho finito una match su quattro, in prefinale sono partito nono e ho fatto quinto, in finale siamo sfilati bene, sono passato secondo, e dopo, a causa di problemi, ho finito quarto, però è stata una bella gara. Non è andata sicuramente bene per Michele Beccaria, in KZ2 un guasto al cambio, cosa è successo? Non abbiamo capito. In finale, i primi giri andavamo bene, infatti dalla 32esima posizione siamo riusciti a salire piano piano fino alla quindicesima, sedicesima, poi abbiamo avuto problemi al cambio, non entravano, non si toglievano le marce, quindi mi sono dovuto accontentare per evitare di fermarmi. Chiudiamo il nostro tour nel box del Top Kart Racing Team, ovviamente con il vice team principal, eccolo qui, Sauro Cesetti, un debutante quasi, scherzi a parte, che appazzia da uno, insomma, Sauro, dimmi qualcosa tu dai, non faccio domande. C'è una montagna di lavoro, speravo di stare un po' più avanti, però la montagna, siamo i piedi della montagna purtroppo, problemi tecnici che spero i motoristi hanno visto dove sono, non lo so poi dopo se la prossima gara riusciremo a metterli a posto oppure no, però l'importante è che la squadra in primis è comunque andata bene, quei ragazzini sono acerbi, poverini, hanno peccato più che altro in esperienza, perché ho visto che il podio io ci credevo, ho mangiato la rete quando ero là, a forza di dirgli dai, perché io il podio lo volevo, come lo volevo con Antonio, avevamo parlato di setup prima della finale. Alla fine però è arrivato un terzo credito del podio per James Poole nella 60 Mini. Guarda, con la Mini erano prime e secondi, si sono buttati fuori, perciò alla fine c'è poco da dire lì. No, lì non ci sono problemi, io penso che neanche nel KF ci sono tanti problemi, più che altro è riuscire ad inquadrarli. Loro non riescono a sentire e percepire ancora tutto come si deve, però adesso piano piano li inquadreremo. il materiale è buono, speriamo soltanto di raccogliere un po' di frutti, perché per noi e per i meccanici è la cosa più fondamentale. E come il gol per il capo camponiere? Eh sì, proprio così. E allora in bocca al lupo per il cazzetto di Branduzzo? Crepi il lupo!